monologo il milanese ho deciso di fare questo monologo perché l'altro monologo era serio adesso ho deciso di farne uno un po' più divertente il milanese e il piccolo milanese allora oggi vi spiegherò cosa sono i milanesi che cos'hanno di differenza delle altre parti non sono cioè non è un insulto per esempio ai romani e ai napoletani è solo un modo per far ridere su cosa fa il milanese per esempio il milanese mette sempre l'accento davanti ai nomi cioè ma il per esempio facciamo una scenetta allora gianlucca se fai muoio chiama il mario va? chiama il mario ok vai il marietto risponde andiamo andiamo e gli altri risponde tac fatto uè mario pronto allora ci vogliamo vedere oggi in piazza del duomo si in piazza del duomo lì ma già già nata diciamo si vediamo qualcosa sono già lì eh si tac eh si passo lì faccio un volo al volo passo proprio va bene ora alle quattro e mezza va bene ok ciao ci beccate in piazza del duomo ci becchiamo in piazza del duomo eh vai tac uè pa ci becchiamo in piazza del duomo allora con il mario ok tac fatto questo qua era il mio mini monologo in realtà dovevo fare un monologo diciamo grande si un monologo normale solo che ho perso il file delle altre scene quindi dovrò fare il mini monologo spero che questo video vi sia piaciuto e a voi le le scene extra degli errori ciao questo qua era il mio mini monologo in 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 questo qua era il mio mini monologo questo qua era il mio mini monologo in realtà dovevo fare un monologo grande e polizie ospeda del duomo e a voi in in questo qua這些 the card ci vediamo al prossimo video ciao 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 c ciao